Ciao, sono Renata, sono ancora qua a raccontarvi un po' del mio libro che spero veramente che vi incuriosirà perché secondo me non sono tanti i libri che parlano di come migliorare un po' di tecnica, un po' di informazioni davvero particolari su come migliorare la situazione a letto tra le persone nel sesso e secondo me ci sarebbe bisogno di scriverne tantissimi di questi libri perché una volta un mio amico diceva e i tecnici sono importanti cioè nel senso che al sesso si dà tutto per scontato che c'è se c'è l'amore c'è tutto e può essere perché se c'è tanta passione tanta chimica il sesso probabilmente va alla grande però in tutte le cose anche il tango voglio dire due persone si amano ballano insieme però hanno bisogno di qualcuno che gli insegni a ballare bene tango non so qualsiasi cosa persino a scrivere a macchina c'è bisogno di qualcuno che ti insegni in tutti gli sport in tutte le discipline a sì che lasciare il sesso solo all'istinto mi sembra com'è che è un peccato cioè se va bene va bene non serve fare niente però magari andare a scuola anche di sesso visto che il mio libro si tratta di una scuola di sesso potrebbe essere interessante no e siccome non esiste una scuola così per ora quindi penso che leggendo il libro uno può come pensare sto andando a scuola fare tutti i passaggi del manuale perché vi ricordo che le radici del piacere è un manuale semiserio di sesso tantrico è semiserio perché perché non mi prendo sul serio nemmeno io e spero vi faccia un po ridere non sono una cultrice del tantra profondo delle origini c'è un po di quello che io ho preso nella mia vita c'è quello che ho ascoltato c'è insomma c'è l'esperienza di una persona che si è interessata moltissimo per varie ragioni a questo argomento a questa pratica e quindi spero che troverete delle informazioni interessanti no come un manuale di sci o un manuale di salsa baciata ok spero che vi piacerà e farò altri video perché così vi invoglio proprio a leggere il mio libro ok un abbraccio ciao ciao